Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV in studio Nicola Gianna Attasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 ricordiamo che sono chiuse in direzione Bologna le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con possibili disagi alla circolazione. E possibili disagi anche sulla FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in entrambe le direzioni. Sulla Statale Trebis Tiberina chiusi per lavori, gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. La viabilità cittadina a Firenze oggi dalle 8.30 alle 18 chiuso in via Rismondo il tratto tra via Sette Santi e via Rosolino Pilo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!